Ma come cazzo è finita che cerco la mezz'ora, da mezz'ora che c'è? Oh, vieni qui, vieni qui, guarda che figo sto sondaggio, che dire li facciamo mettere? Ma come sondaggio? Non hai visto che da quando abbiamo iniziato Warpains tutti ci fregano il sondaggio, il sondaggio? La mutanda qua, il boxer a righe, cacchio, ma porca miseria! Ma tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, Rising Sun Pro Wrestling ci ha annunciato senza darci un match, senza bucarci in un match! Io veramente ce l'avrei il match, è pure figo tra l'altro, conosci l'idea della star internazionale dall'America? Oh ma! Le ammazzo tutti questi qua, le ammazzo tutti, tutti, tutti siete tutti morti, tutti morti! Tra le te, io ti amo tanto, e mi serve perché se tu hai un match, anche io un match, noi due abbiamo un match, e si, Fornaghi caccia un miglior tattin d'Italia, perché Passo e Giochi sono pronti per il 22 settembre! E se... io me ne vado! Cazzo! Vabbè, qualunque cosa succeda, ci vediamo in 22, Giochi e Passo, Rising Sun!